Facciamo una piazza più bella, sicuramente non è... Sì, siamo in tempo! Proce! Cattivo! Di dito! Siamo per la messenza stile, non si è stato messo. Aspetta, non so, 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 non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, 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 non prima la camera poi ha le vallette vince Giulia è andato visto Giulia grazie vai sulla sedia grazie 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 grazie